Ciao, mi chiamo Elena. Sto qua su questo sito perché ho sentito tante buone cose di questo sito. Spero che sarò fortunata di incontrare qualcuno che, come me, cerca le relazioni serie. Come puoi vedere, io sono totalmente reale. Allora, se ti piace il mio profilo, scrivimi la lettera o invia la richiesta di chat. Prometto di rispondere. Attento alla tua lettera. Per ora, ciao! Grazie.